Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 207. Oggi andiamo a ripassare l'idea della lezione numero 187. Quindi diceva così e dice così, benedico il mondo perché benedico me stesso. Io non sono un corpo, io sono libero poiché sono tuttora come Dio mi ha creato. Benedico il mondo perché benedico me stesso. La benedizione di Dio splende su di me dall'interno del mio cuore dove Egli dimora. Non devo che rivolgermi a Lui ed ogni tristezza si scioglie nel momento in cui accetto il suo amore illimitato per me. Quindi concludiamo la lezione dicendo io non sono un corpo. Io sono libero poiché sono tuttora come Dio mi ha creato. Il mondo sono io quindi benedico il mondo perché benedico me stesso. Oggi dobbiamo pensare a questa idea e farla nostra, capirla fino in fondo. Allora io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto domani con la prossima lezione. Ciao a tutti.